buon sabato dolcissime 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 vi faccio vedere quello che ho acquistato all'auna ho acquistato questo setto quattro pezzi allora questa crema per il corpo molti azioni da 400 mm profumazione cocco e cioccolato questo balsamo per le labbra da 10 mm e questa mani il crema per le mani da 75 mm e poi questo gel doccia da 400 mm e mele per esattezza io credevo che fosse crema per il corpo invece ho scoperto che gel doccia quindi questo regalo a maria perché se io lo uso riscrivenimi l'ortitare sarebbe rossore la pelle pizzica morire poi questi due rossetti profumazione pesca e e bronzo poi questo siero per le unghie perché io ce l'ho spezzata e più mi sono comprato questo liner e ombretto poi questo smalto settimuno questo lucida labbra lip gloss e trasparente brillantinato e questi due mascara uno arancione sarebbe il la confezione arancione però il contenitore e nero il il mascara e poi questo mascara sempre nero della eur 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 porix è un mascara che si usa un botto poi questo pennello per le sopracciglia questa spazzola per i capelli sia ondulati ricci e mossi ho avuto come in omaggio la mia amica mi ha regalato questo detergente per le mani che come quello che si usa nei ristoranti negli ospedali knick eccetera eccetera queste bustine che sono fondotinta crema per il corpo eccetera eccetera questi due rossetti uno varone uno nero poi sempre dall'avono acquistato questo pantalone nero aderente con tre bottoni apposta cernesi si hanno i bottoni altavita aderente molto bello poi questo ho comprato questo negozio questo legge nero l'ho pagato a tero e questa vado a dicere un po' questi due libri del bimbi stamattina ho comprato questo l'ho pagato 5,90 euro e questo 2,50 euro queste escono ogni mese questa volta esce ogni mese oppure ogni due mesi quindi vi do il mio bacio e alla prossima video e buona domenica baci baci ciao grazie